Musica Si chiama Giuseppe, ha 71 anni, viene da Campobello di Mazzara ed è in cerca dell'anima gemella della donna che dovrebbe fargli compagnia per il resto della vita Buonasera signor Giuseppe Buonasera Possiamo dire Zupeppe Allora Zupeppe lei è di Campobello di Mazzara Campobello di Mazzara E sta cercando questa donna per farle compagnia Esatto, una donna per cercare compagnia Ascolti, lei è Veto come mi ha detto Sì, sì, da sette anni E in sette anni non ha avuto nessuna storia Nessuna storia con nessuno Va bene Zupeppe, allora stabiliamo una cosa, a che genere di donna noi siamo interessati? Ha preferenze per quanto riguarda donna? No, non hai preferenze, a parte che c'è una donna che a mia mi rispetta e io rispetto a lei E come abbiamo un semola Non ne volevamo andare, andiamo Esatto E tutto questo E io sogno sano Una pinola, una pento Per nessun motivo E' energico, bella energia E' bella energia In salute Esatto Oltretutto sta pure bene Perché mi ha detto c'è la casa pure Sì, sì, sì C'è una bella pensione Non le manca nulla Non manca nulla Le manca solo la donna per tenerle compagnia Sì, soltanto in giorno uno gira, ferria Ma quella che è la sera Sì Pare che ha avuto il tetto in testa Perché non aveva ragione con la televisione Certo E questo Purtroppo la sera la solitudine si sente di E' brutta, brutta, brutta Ascolti, lei c'ha figli? Sì, c'è figli C'è maschio, c'è figli Meno tutti sposati E indipendenti Tutti mi rispettano E alla sera sono sempre solo Perché ognuno aveva la famiglia E a passare con la famiglia Esatto Parliamo dell'età di questa donna Lei ha 71 anni Quindi questa donna da che età dovrebbe partire? Età di partenza per arrivare a un massimo? Magari 60, 65 Un giorno è dopo A essere pure un pochettino sana Puro lei Mi sembra giusto E poi se non ci sono conseguenze Le voglio fare un'altra domanda Signor Giuseppe Come mai si è rivolto alla mia trasmissione? E ho rivolto a questa trasmissione Perché un anno indietro Iva a Cartebubbe Ripone Sono partito per Tunese E non c'è andato più Ora mi viene la Dea a Rene Iva a Cartebubbe E non c'era nessuno E mi sono trasferito E viene a Marsala Esatto Dico ma lei si è presentato tramite consiglio di un amico? Sì Sì Un consiglio di un amico Come si dice sempre il passaparola è la migliore pubblicità Esatto Basta che uno lascia un buon odore Esatto Trova da tutte le partite Esatto Perché ci vuole sempre uno che fa una strategia E dopo l'altro ci va a pezzo Va bene Signor Giuseppe Parliamo un po' di lei Che cosa le piace fare? Come passa il tempo nella giornata? Già so io che lei è automunito Guida la macchina benissimo Sì Sì Guido la macchina benissimo Come passa il tempo nella giornata? E come passa A mattina mi sono sui 9, 9 e mezza Mi faccio un po' di polizia a casa E poi mi ne vado a bar A mezzogiorno mi ritiro a casa Faccio un po' di cucinare E poi mi faccio un po' di salino E poi al sera esco di nuovo Certo E tutto questo Sì Passatente Va bene Un'ultima cosa In che zona la dobbiamo ricercare questa donna? Cioè lei è di Campobello di Mazzara Fino a dove ci possiamo allargare? Non ci possiamo allargare O Trapane O Palermo Oppure anche a Campobello Cassevetrano Nell'Agrigentino ci possiamo allargare Sì 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 Puro Quindi nelle nostre zone Sicilia A Barcelli Poi ne eravamo un appuntamento Certo E ne incontriamo l'appuntamento che c'è Certo Va bene signor Giuseppe Amiche telespettatrici Sto rivolgendomi con donna Che partano dai 60 ai 65 anni In poi Il signor Giuseppe è una brava persona È una persona sana Intelligentissimo E soprattutto sta bene salutivamente Dico bene? Sta bene Sta cercando la sua anima gemella La donna che gli dovrebbe far compagnia Per tutta la vita Per tutte quelle di voi Che lo volessero conoscere personalmente Magari frequentarlo un po' Vi fate compagnia a vicenda Perché Frequentare un pochettino E poi Non possono fare altro Che chiamare al numero Che state vedendo sotto Nella descrizione del video Quello lì sotto È il numero del signor Giuseppe Chiamate a quel numero lì E vi metterete d'accordo Sull'incontro Signor Giuseppe In questo momento Ci sono queste donne Che stanno decidendo Se chiamarla oppure no Lanci un messaggio Verso di loro Guardando la telecamera Qualsiasi cosa può dire E che c'ha a dire Qualsiasi cosa Come se stesse parlando direttamente Con la donna che ci interessa Ma io non lo so Sono un pochettino timido Telefonatemi Non dico solo questo Telefonatemi A questo numero E ne eravamo Usare Ne facciamo una discussione Pure per telefono No Per vedere Dove Come siamo combinati Come Andiamo a incontrare Magari la canoscenza Che Ne canoscemo No Per ferirsi del brutto E l'ario Ovviamente di presenza E' una persona Molto più simpatica Di come si presenta E' davvero una brava persona Sinceramente Amiche delle spettatrici Per tutte quelle di voi Che fossero interessate Chiamate perché Non ve ne pentirete Perché è un buon acquisto Questo è tutto Per i cuori solitari Alberto vi saluta E vi saluta naturalmente Grazie accettante Signor Giuseppe Ciao 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 ciao